Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno, martedì 22 marzo, terzo giorno di primavera, ve lo ricordo, quest'anno la primavera è iniziata il 20, Konami continua con il suo silenzio assordante sull'aggiornamento 1.0 di Football 2022, non c'è una data, non c'è una rodva, non c'è nulla, ma in questo ultimo fine settimana ha fatto una esplosione di advertising, per il momento un advertising per una demo plus sostanzialmente, ma è incredibile, adesso vi mostrerò una serie di immagini e vedrete quanto, cioè, quella che sembra l'advertising per un gioco bello pronto uscito da vendere, o da vendere, visto che il football dovrebbe essere gratuito nella sua quasi interezza solo per la vendita e le microtransazioni, invece per il momento, io ve lo ricordo, Konami non sta guadagnando un centesimo al 30 settembre, c'è chi propone i boicottaggi, non giochiamo più, cioè, prima di tutto neanche io sto giocando, ma giocare o non giocare, Konami sempre zero centesimi sta guadagnando, quindi veramente ci auguriamo che questa esplosione di advertising sia il segnale che davvero finalmente manchi poco, poco può essere qualche settimana o ancora più di un mese, però pensare che vada oltre aprile e maggio, a me sembra uno spreco di risorse incredibile tutto questo advertising, comunque queste sono le mie opinioni, mi fermo lì, vi faccio vedere i fatti, gli elementi ufficiali, il nostro amico Mauri D, di nuovo protagonista delle nostre pagine, ci segnala che nello scoreboard della USL, il secondo campionato nordamericano, c'è il logo di football, tra l'altro la scelta cromatica nell'insieme è veramente orrenda, vabbè, ma non c'ha da fare il nostro amico Mauri, e questa è una conferma di una notizia che avevo dato a novembre di questa partnership che era stata già ufficializzata, ma adesso non so di quando è questa immagine, dovrebbe essere recente, comincia ad essere visibile questa partnership che era stata già scritta a novembre. Qui, prima della partita con Torino Madrid, il Barcellona aveva fatto una partnership pubblicizzata con il football, niente grafica del gioco, ma qui vediamo Obama e Young e la line-up presented by Football 2022, anche se già lo aveva fatto in altre volte. La Roma, la Roma, i gol della Roma sono stati festeggiati su Twitter con i gol, con delle animazioni di football, eccolo qui, presented by Football 2022, Pellegrini, gol, 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 i football, niente grafica del gioco, anche in questo caso, a differenza del Napoli che conosci meno, oltre a Pellegrini ovviamente anche Abram, presented by Football 2022, questo era il secondo gol. La Juve, powered by Football, Paolo Di Bala, primo gol della Juve, gol, presented by Football 2022. Secondo gol della Juve, Vlaovic, Dusan Vlaovic, presented by Football 2022. Anche sempre in questi casi, niente grafica del gioco, in questo caso, dopo tanti mesi e senza avere la maglia aggiornata per il Napoli, c'è stato sia con il Verona che con l'Udinese un'animazione di gioco, qui invece si usano immagini, diciamo, foto e animazioni dei giocatori reali, ma sempre presented by Football 2022. Di nuovo il Barcellona, che ha festeggiato questa impresa storica del 4-0 contro il Barcellona. I Football 2022, Ferran Torres, gol, I Football 2022, I Football 2022, Goal, Auba has to give back the lead, 0-1, gol, I Football 2022, Monza. Anche un'altra cosa sul Monza, devo dirvi, Andrea Berberis, gol, powered by Football 2022. Maury ha avuto l'accortezza di accorgersi di questa partnership, ma mi sono accorto sull'Instagram del Monza che in realtà questa partnership già con immagini e asset è stata già iniziata da settimane, ma io non me ne sono accorto, non se ne ha accorto nessuno, Maury è stato il primo, e anche questo è un po' incomprensibile non fare un comunicato stampa, non dare, come dire, una certa visibilità a questa partnership, che certo non è con la Juve, non è con il Napoli, non è con la Roma, con la Lazio, con l'Atalanta, che sono squadre di Serie A, ma stiamo parlando comunque di una squadra che ha il suo seguito e che comunque piace o non piace è stato fatto, perché non dargli visibilità, almeno con un comunicato stampa incomprensibile. Ecco, poi faccio una piccola eccezione per questo tweet, proprio, come dire, una piccola, proprio passando. Hernan Galvani dice, si dice sul forum di Elettrolato, che non ho idea di chi sia, che il playtest sarà il 9 aprile all'onda, prendi questa data come un river, ma presto lo sapremo ufficialmente. Cioè, il 9 aprile non è che esce il gioco per tutti, stando a queste indiscrezioni, ci sarà un playtest da parte di influencer, giornalisti e tutto quanto a Londra, e ce ne dovrebbero essere altri, come ha detto già Renan Galvani. Prendendo come riferimento settembre, quando anch'io partecipai a un evento di Konami su E-Football 2022, in quell'occasione, mi pare che l'evento si tenne verso il 9, 10, 11 di settembre, 20 giorni dopo uscì E-Football. Potrebbe, sottolineo, potrebbe essere una cosa simile. Sostanzialmente, è sempre più possibile, non certo possibile, che questa benedetta uscita del Creative Teams sia per fine aprile o inizio maggio. Se non sarà così, davvero non si capiscono tutti questi advertising, tutti questi advertising, tutti questi advertising, che Konami sta facendo in questo momento per un gioco che, piaccia o non piaccia, non genera neppure un centesimo. Staremo a vedere, ragazzi. Un ringraziamento ancora al grandissimo editor, in particolare per l'audio, Mauri, per la segnalazione e per il tag. Io ringrazio voi per aver seguito questo video. Vi do appuntamento al prossimo video. Adesso, in mattinata, arriva un video unboxing di un prodotto molto interessante. Se ancora non vi siete iscritti al canale, beh, fatelo subito, perché qui arrivano tantissimi video tutti i giorni. Se siete già iscritti, potete abbonarvi se volete supportare il canale. Altro modo per supportare il canale è fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione. A voi non costa un centesimo, vi assicuro che non costa un centesimo, e supportate il canale con una piccolissima parte dell'acquisto che fate. Potete comprare qualsiasi cosa su Amazon. Libri, CD, videogiochi, computer, console, console retro gaming, caffè, zucchero, sale, cellulari. Non importa. L'importante è passare però per il link di affiliazione. Vi ripeto, a voi non costa un centesimo in più, ma ci fate una grande cortesia. E ripeto, se ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito e attivate tutte le notifiche. Vi do appuntamento al prossimo video. Io vi ringrazio per l'attenzione. e fatemi un po' sapere cosa ne pensate di questa esplosione di advertising sui social delle squadre partner ufficiali di football, senza però avere un nulla sull'aggiornamento 1.0. Ciao e al prossimo video. Ciao.